Mungo Yoshiko Mela, arancia, susina, aiuto! Mela, arancia, susina, aiuto! Cosa sta facendo? Arancia, susina! Sta giocando a campana? Bravo, sei arcuto! Ma da cosa l'hai intuito? Anch'io sono stato un bambino. Mmm, secondo me sei stato bruttissimo. Si presenti, intanto. Ciao, ma non piace che è super eroina giapponese. Ah, quindi lei è un manga, come Ken il guerriero. Sì, come Akira. Sì. Solo che io sono un fumetto, loro sono anime. Quindi lei le manca qualcosa, anzi, le manga qualcosa. Ha fatto una matura. Tanto per cominciare, lei è anche un super nemico? Sì! Chi è? Oddio! Che mi hai ricordato! Sì! Spatafora! Spatafora! Terribile! Spatafora! Che c'è? Non lo nominate! Perché... Mi spavento! Ho capito. Quindi non devo dire Spatafora. Eh, scusi. Ma per caso, non ha anche un super potere per sfuggirli? Sì, certo. Vuoi sapere qual è? Sì. Io viaggio nel tempo! Ma è fantastico! Ma perché non me l'ha detto subito che lei viaggia nel tempo? Sì. Come viaggia nel tempo? Io? Eh. Così faccio... Boom! 1, 2, 3! A casaggio, così. Ma no, ma che tristezza! Non decido niente! E perché? Eh, bravo! Chiedetevi perché! Chiedetevi perché! Chiedetevi perché! Perché? Ah, ce ne so! Ma chi vuol prendere in giro? Questa storia non è credibile. Ah, a me mi fai proprio rite! Non ci credi mai! Eh, no! Allora, la professione ne vongo le vedoci, te so bene! Sì! Io no! Eh, lo so! A me è un basso e niente! No, lei no! Non è credibile! Lei non è credibile! Non so logica! Che cosa... Che è? Che c'ha? Spadafora! Certo! Che... S... B... A... T... Spadafora, ho capito! Sai! Sì! Sì! Poi!